Grazie a tutti. Grazie a tutti, naturalmente, che siete venuti a sentire nella speranza di poter contribuire, di poter dire qualcosa di minimamente significativo. E ringrazio tantissimo, ma veramente non formale, Giulia Cogoli per quello che sta facendo. Per la sua capacità di costruire questo che è un evento non solo della mente, ma della psiche. Grazie per l'esperienza che permette di fare. Sicuramente ai relatori, ma credo anche a chi è qui e che segue. Io vi chiedo scusa se ogni tanto seguo un po' una traccia, vi prometto di non essere noiosa. Ma il rispetto che ho per la parola, per la parola incarnata, per l'emozione che la parola può trasmettere, mi fa chiedere di seguire, forse perché è comunque il mio lavoro analitico, è un lavoro sulla relazione e la parola fa parte e traduce relazioni e sentimenti. E poi la scrittura è qualcosa che mi permette di riprendere, rielaborare un vissuto molto complesso e di cui se qualcuno c'era a sentire Stefano Bolognini l'altra sera, che ha fatto questa bellissima relazione sul transfert, contro transfert, cioè su quello che accade nella stanza dell'analisi, sull'ascolto rispettoso e sulla dinamica, sul movimento, su quello che succede in ciascuno di noi, in un analista, che si affida alla propria esperienza, alla risonanza, dentro di sé per comunicare qualcosa di significativo anche all'altro. Ecco, io sono Iunghiana, Bolognini e Freudiano, ma non possiamo che essere compagni in questa avventura della psiche. Ora, il mio intervento di oggi è sulla complessità della relazione tra femminile e materno. Cioè, che cosa significa? Come ce la caviamo? E quindi seguirei qualcosa, sono molto contenta che sono riusciti a entrare anche le persone che erano in attesa fuori, perché mi si stringeva il cuore, il pensiero. Bene, ben arrivati. Beh, questo è. Ringraziamo l'organizzazione per questo. Allora, io inizierei leggendovi una poesia che mi è molto cara, di un poeta che amo moltissimo e che ho avuto il privilegio di conoscere personalmente, che è Attilio Bertolucci. E racconta, in questa poesia, che si chiama A sua madre, che aveva nome Maria, racconta qualcosa di profondamente suo e profondamente universale del materno. Sei tu, invocata ogni sera, dipinta sulle nuvole che arrossano la nostra pianura e chi si muove in essa, bambini freschi come foglie e donne umide in viaggio verso la città, nella luce di un'aquazzone che smette. Sei tu, madre giovane eternamente, in virtù della morte che t'ha colta, rosa sul punto dolce di sfioritura, tu, l'origine di ogni nevrosi e ansia che mi tortura, e di questo ti ringrazio per l'età passata, presente e futura. Ecco, questa apertura alla gratitudine di un materno, che comunque vada, ci mette nel mondo e che ringraziamo con tutta, con la consapevolezza dell'origine di essere l'origine di ogni nevrosi e ansia che tortura, e di questo ti ringraziamo per l'età passata, presente e futura. Questa gratitudine io me la sento risuonare e ne ho bisogno ogni volta che inizio faticosamente in analisi con qualcuno, uomo o donna che sia, il percorso del ritrovamento, non per giudicare, ma per essere, per essere dentro la complessità di qualcosa che fin dall'origine è la ferita del materno per ciascuno di noi. E ora il percorso è segnato, per stare un po' al tema, dalla complessità degli opposti, e non è soltanto una complessità fuori di noi, ma è proprio nella moltitudine delle realtà psichiche di cui siamo fatte, nel racconto in cui ci giochiamo, nel racconto di noi, noi stesse e nel mondo, in cui ci giochiamo sostanzialmente due parti, la femminile, la dimensione femminile e la materna. E noi siamo immerse in questo doppio, in questa complessità, in questi opposti di luce e di ombra. E comunque la complessità di cui siamo fatte, di cui è fatta la nostra vita, vuol dire esserci e al tempo stesso sapere la precarietà degli incontri fuori e dentro di noi, il continuo mutamento, e che il percorso creativo è segnato dagli opposti. Ecco, quello che non vogliamo è essere travolti da un collettivo che omologa, che rende, che appiattisce, che rende tutti uguali, perché l'unico, l'essere unico di ciascuno di noi è un valore. Più si è uguali e meno si vive, cioè si è ingessati in un involucro stampato in multipli e l'identità è tradita, sommersa. E questo, così insomma, questa desolazione ci coglie nel guardarci attorno. L'incontro con noi stesse è segnato con la misura che dobbiamo riconoscerci da questa partenza, da questo dato del materno, come ineliminabile, come l'origine stessa della nostra esistenza, perché appunto noi, come esseri umani, nati di donna, donna o uomo che ci tocchi di essere, quel corpo psiche che ci ha generato dà l'impronta originaria. Cioè, dalla madre proveniamo e la nostra identità nasce dall'unione totale e poi dal distacco da lei, cioè dall'appartenenza e dalla separazione. Ma la traccia della parte di sé perduta con la separazione rimane impressa. E dobbiamo saperlo. Quindi, quale parte, quale storia. Ora, tra le parole, immagini che personalmente mi raccontano l'essenza della dinamica tra appartenenza e separatezza, sì, ci sono tutti i testi analitici, ma a me piace molto far riferimento alle fiabe e alla poesia. E c'è questa appartenere e questo andarsene c'è nella storia del piccolo principe che, mentre incanta con le parole della volpe, porta sul terreno della relazione e parla dell'addomesticamento come del luogo dell'incontro segnato dalla contraddizione, dalla negazione e dalla negazione che la perdita impone e quindi dalla trasformazione. E allora, anche se la conoscerete tutti perché è stampata sulle magliette la storia del piccolo principe, però volevo leggervi questo piccolo brano. Che cosa vuol dire addomesticare? È una cosa da molto dimenticata, vuol dire creare dei legami. Tu, fino ad ora, per me, non sei che un ragazzino uguale a centomila ragazzini e non ho bisogno di te e neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una volpe uguale a centomila volpi, ma se tu mi addomestichi noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai per me unico al mondo e io sarò per te unica al mondo. La mia vita sarà come illuminata. Conoscerò un rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri. Gli altri passi mi fanno nascondere sottoterra. Il tuo mi farà uscire dalla tana come una musica. E poi guarda. Vedi laggiù in fondo dei campi di grano? Io non mangio il pane e il grano per me è inutile. I campi di grano non mi ricordano nulla e questo è triste. Ma tu hai dei capelli color dell'oro. Allora sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticato. Il grano che è dorato mi farà pensare a te e amerò il rumore del vento nel grano. Così il piccolo principe addomesticò la volpe e quando l'ora della partenza fu vicina Ah, disse la volpe, piangerò. La colpa è tua, disse il piccolo principe. Io non ti volevo far del male ma tu hai voluto che ti addomesticassi. È vero, disse la volpe. Ma piangerai, disse il piccolo principe. È certo, disse la volpe. Ma allora che ci guadagni? Ci guadagno, disse la volpe, il colore del grano. Ecco, questa piccola storia racconta come si fa a essere se stessi e essere però, vivere la relazione nella reciprocità. La fatica di uscire dalla dipendenza però il modo poetico di tenere vivo il legame d'amore. Ecco, questa è la sfida, cioè la misura della trasformazione e la compresenza degli opposti tra bisogni e desideri. Il materno e il femminile cantano ognuno una diversa storia, una diversa canzone. A volte è una musica che ha una sua armonia e a volte è carica di inquietudine, di dissonanze. Però l'essere, come si fa a essere dentro un legame che crea appartenenza e allo stesso tempo a sapere il tempo della fine? Il materno è l'origine. Da lì apre il senso, apre alla vita e con la vita alla morte. Carla Lonzi, che è una femminista storica nei primi anni sessanta, scriveva «La maternità è il viaggio». L'impronta del femminismo delle origini conosceva la funzione inestimabile del materno, come la volpe e il piccolo principe, una metafora di quel materno della volpe che conosce l'inevitabilità della perdita e del distacco, ma non può far altro che passare di lì, perché lì si gioca il destino, la prospettiva del futuro, la memoria del grano. così come il destino del piccolo principe sa il tempo dell'andarsene. Se passo dalla fiaba al suo progenitore, al mito, il grano della volpe e del piccolo principe mi rimanda alla storia di Demetri e Core, alla madre terra, alla madre del grano e alla vicenda dell'appartenenza del distacco, del ritrovamento, della trasformazione che il mito racconta ed è proprio il mito di Demetri e Core quello fondante la complessità della relazione madre-figlia e di questo parliamo dopo. Ecco, ma la dinamica tra appartenenza e differenza nella storia del mito di Demetri e Core mette in scena qualcosa che sta nel mondo della relazione interumana tra la madre e la figlia tra le due ma sta soprattutto dentro ciascuna di noi cioè va letta in senso intrapsichico cioè come ciascuna di noi dentro di sé ha questo doppio della madre e della figlia della terra che è desolata con la perdita e della rinascita nella figlia ecco questo è il doppio della nostra identità inconscia cioè ciascuna di noi sta sul confine tra il materno di Demetra e il femminile di Core il doppio è quello che permette di riconoscere in noi stesse la compresenza dolorosa e difficile e complessa da vivere di materno e femminile perché appunto tutto il processo tutto il percorso della conoscenza di sé sta dentro questa frammentazione questa rottura questa la sfida è quella di trovare l'interezza a partire da una frammentazione e da una continua scissione la sfida è quella di arrivare a una relazione dialettica fra le parti a un incontro tra il materno e il femminile non solo fuori di noi ma dentro noi stesse ecco sgombriamo il campo dall'equivoco dell'appiattimento sul piano della realtà cioè non si tratta di vestirsi tutti uguali pettinarsi uguali fingere di essere delle delle eterne adolescenti perché questa è una caricatura non è non è questa la storia come se non ci fosse un'età e un tempo per ciascuna ma ci fosse invece una finzione che annulla il tempo e sono madri tremende queste finte fanciulle che rubano la scena alle figlie che anzi le spingono avanti al posto loro a fare le veline sono cose terrificanti usare il corpo giovane delle figlie come un prolungamento di un femminile perduto con la trasformazione io parlo di una qualità profonda dell'esistenza in cui il movimento creativo della soggettività sia un vero continuo divenire che che permette di riconoscere le tracce di questo doppio di cui siamo fatte tra materno e materno ha tutta una gamma tra l'accudente e il feroce perché la madre non è la madre buona delle caramelle e il femminile pieno altrettanto di grazia o di sottomissioni anche qui incarnato in una moltitudine di varianti e ci tocca prenderci cura di queste presenze presenze Luciano Anissim diceva i fantasmi come antenati queste presenze dentro di noi per cui arrivo facendo questa premessa anche se per Barlumi alla domanda di fondo che mi tocca personalmente e che rivivo in analisi ed è una domanda che ci si pone per tutta la vita come vivere la relazione madre figlia fuori e dentro di noi ecco nella relazione madre figlia come nella storia dell'analisi compare questo enigma senza fine che si fatica a riconoscere ed è la compresenza del materno potente irriducibile a qualsiasi comprensione e definizione razionale e il femminile altrettanto potente irriducibile e inconscio ecco fino a quando si sta inchiodate ai ruoli ci si può illudere di calarsela io sono la madre tu sei la figlia a me tocca una roba te tocca un'altra non si fanno le domande come se fosse possibile perpetuare l'illusione di un mondo senza domande in cui il materno è una sicurezza senza confini e il femminile è un segreto che si lascia altrove dovrebbe garantire questa scissione ma si rischia di essere stritolate appena ci si muove oltre queste maschere oltre la fissità formale di questi ruoli ed è allora che rischiamo di essere di svicolare da una parte di scivolare da una parte o dall'altra nelle direzioni di una trappola che comunque vada a fa cascare in uno stagno cioè il problema è tenere il doppio come il valore per se stesse e quindi viverlo dentro la relazione allora parlare del materno che cosa vuol dire detta la poesia prima parlare della madre significa parlare dell'andare e dello stare lontano e dentro la terra parlare dell'inquietudine di una relazione comunque sia andata e comunque vada il rapporto reale in cui convivono desiderio e delusione tenerezza della memoria nostalgia e sentimento della perdita parlare del femminile vuol dire entrare in un territorio altrettanto duro che con la madre e dalla madre nasce ma poi se ne stacca se ne va per conto suo nella ricerca di un eros che non coincide con la fusionalità e la simbiosi del materno ma va verso lo sconosciuto muove nella solitudine nella disappartenenza i mondi e esperienze e sensazioni che sono altro nella madre c'è l'origine primaria delle relazioni affettive delle storie d'amore del nostro modo di aprirci o meno al mondo nella madre si sta dentro come un uovo l'impronta che da lei ci viene e come madri a nostra volta ci troviamo a trasmettere è quella con cui conviviamo in tutte le storie più importanti della nostra vita e come analista io lo sperimento continuamente nella nella presenza e nell'assenza nella terribilità nella fusionalità e nel bisogno di distacco eppure di esserci sempre con la madre non si sfugge al materno è l'impronta originaria del piacere del dolore del desiderio e del vuoto ma quando la madre ha compiuto il compito ha ultimato per quanto sia possibile il compito dell'accoglimento dell'accudimento ha svolto la parte simbiotica dei primi tempi di vita e poi nel correre del tempo quello dell'ascolto senza oppressione ma sto parlando del tentativo che ciascuno di noi fa ma veramente come tentativo quando c'è quando si è andati quale sarà dopo il passo da prendere cioè quale il movimento del lasciare andare e dell'andarsene e qui torniamo alla richiesta del piccolo principe alla richiesta della volpe al piccolo principe addomesticami ecco questa immagine poetica io vi rileggo a questo punto perché a questo punto è ancora più potente e incarnata la poesia di Bertolucci a sua madre che aveva nome Maria sei tu invocata ogni sera dipinta sulle nuvole che arrossano la nostra pianura e chi si muove in essa bambini freschi come foglie donne umide in viaggio verso la città nella luce di un'acquazione che smette sei tu madre giovane eternamente in virtù della morte che t'ha colta rosa sul punto dolce di sfioritura tu l'origine di ogni nevrosi e ansia che mi tortura e di questo ti ringrazio per l'età passata presente e futura questa sua madre a sua madre che aveva nome Maria Maria era il suo nome lì c'è l'origine di tutto sua madre il poeta riesce a darci questa sua madre come una nostra madre da ringraziare l'origine della creatività l'esperienza del perdersi nelle emozioni nel corpo a corpo lavoro doloroso del lutto dello smarrimento dell'allontanamento per arrivare infine a quel grazie all'infinito andare di quel grazie si sa il dolore la nevrosi e l'ansia che tortura ma anche e qui davvero la poesia tocca l'anima profondamente anche lì dentro invocata ogni sera dipinta sulle nuvole la bellezza del cielo della terra bruna e chiara dopo il temporale l'umidità dei bambini foglie delle donne la luce che si spande sulla città ed è tutto questo è la madre che rimane ed è una dolcezza discreta è la potenza femminile di una madre perduta e ritrovata dipinta sulle nuvole è questa che permette l'incontro a Bertolucci con la donna con il femminile come altro da sé e altro dal materno nella donna io vi invito veramente a leggere le sue poesie a prendere almeno la camera da letto di Attilio Bertolucci la donna Ninetta sempre chiamata Enne che sarà la sua compagna per tutta la vita ma che rimane la fanciulla rimane la core fuggitiva e scrive con le guance di fuoco e gli occhi ridenti camminavi per una selva il sole scherzava con l'acqua che fuggiva via c'erano il ginepro aromatico e le grandi felci fiere e i misteriosi licheni sorse la luna chiara fra i rami il materno e il femminile sono lì tra sua madre che aveva nome Maria e le guance di fuoco e gli occhi ridenti incarnano questi versi il materno e il femminile come una linea possibile di continuità e di trasformazione la nascita e la morte sono i confini della creazione i punti limite entro i quali ci è consentito il viaggio perché il materno è il viaggio è la madre che apre i sentimenti al senso dell'esistenza alle esperienze alle scoperte geniali alla sfida vitale come all'infelicità ma la madre deve essere dipinta sulle nuvole rosa sul punto dolce di sfioritura in questi versi c'è la vita di donna oltre che di madre la madre non può essere trasformata in un oggetto di soddisfacimento dei bisogni perché questo se succede vuol dire farla diventare vittima 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 complice e poi la madre la fa pagare duramente nel fare la vittima ricatta i figli li costringe al rispecchiamento di quanto i figli possono averla rovinata e congelata nel ruolo che l'ha sformata trasformata in altro rispetto alla fanciulla ecco allora la scoperta per quanto sia possibile come tentativo come ricerca è trovare un equilibrio che sempre chiede di essere rivisitato che non si dà mai per acquisito tra il materno e il femminile con qualcosa cioè che apre all'incompiuto da una parte all'interezza dall'altra la ricerca è quella di un'interezza che però viene continuamente rimessa in discussione perché la sfida è quella di non cedere di non appiattirsi sull'una o sull'altra parte pena il tradimento della soggettività Facchinelli ricorda un'intuizione di Ferenzi molto e io non l'ho rintracciata non l'ho trovata mi fido di quello che scrive Facchinelli non il mare è simbolo della madre ma la madre del mare e questo è una cosa bellissima perché nella ricerca dei significati simbolici se non è il mare quando sogniamo il mare dell'inconscio il materno come inconscio non è il mare simbolo della madre ma la madre è simbolo del mare noi siamo dentro qualcosa se se Ferenzi dice la verità e la madre è simbolo vivo di quel mare che tutto accoglie anche la lettura del materno e del femminile va calata nel mare inconscio e dell'inconscio e quindi arriviamo finalmente dopo tanto girovagare alla coppia madre e figlia narrata nel mito di Demetri Core e celebrata non a caso nei misteri eleusini cioè non sappiamo niente di che cosa accadeva perché erano misteri sono indicibili incomunicabili irrappresentabili e sono la storia in noi della irriducibilità e della irrappresentabilità fino in fondo di questa dialettica tra materno e femminile cioè una visione tra i vari miti cioè tra le varie descrizioni del mito il cui centro è un fatto scelgo questa Core figlia di Demetra e Zeus sta cogliendo dei fiori in un campo viene rapita da Ade e portata nel mondo dei morti Demetra reagisce con un dolore selvaggio vagabonda sulla terra senza più dare frutti la sua desolazione fugge la vita porta alla morte gli umani interviene Hermes su richiesta di Zeus e in quanto dio della comunicazione scende agli inferi riportando Core alla madre Demetra il compromesso di Zeus sentenzia che Core dividerà il suo tempo tra Ade e la madre questo mito fondante la l'identità inconscia del materno del materno femminile della donna cosa ci racconta un tempo per la perdita un tempo per il ritorno nella relazione tra queste due realtà lo leggiamo in Jung negli aspetti psicologici della figura di Core leggiamo che nel percorso di una donna c'è una fase di identificazione e di identità simbiotica che si sana solo attraverso una separazione una ricerca difficile e desolata di identità dentro solitudine e sofferenza per ritrovare il rapporto con l'altra come altra da sé Freud intuisce la presenza di un nucleo femminile materno che sfugge alla definizione storica e culturale sia su un piano collettivo che su quello personale quando scrive la cognizione di un'antica epoca pre-edipica nella femmina ha provocato in noi una sorpresa simile a quella che in un altro campo ha suscitato la scoperta della civiltà minoico-micenea precedente alla civiltà greca tutto nell'ambito di quel primo attaccamento alla madre mi sembrò difficilissimo da afferrare analiticamente grigio remoto umbratile arduo da riportare in vita come se fosse precipitato in una rimozione particolarmente inesorabile cioè Atene per Freud è il luogo della ragione del logos mentre Tebe è il luogo delle passioni del sogno dell'eros la cognizione del femminile materno appartiene a Tebe è un fantasma originario preedipico incollocabile nel tempo e dello spazio impensabile eppure reale non si può mai mettere il punto finale bisogna accettare il movimento la fluidità la non riduzione allo scarto della parola e Freud in qualche modo ne sta alla larga grigio remoto umbratile riconosce di non essere in grado pur lavorando poi ponendo le fondamenta del lavoro sull'isteria ha fatto un lavoro straordinario in quel momento però lui dice civiltà minoico micenea ardua da riportare in vita Tebe di là c'è Atene io sto nel luogo del pensiero del logos e mi ci afferro in qualche modo riconosce quindi di parlarne da fuori sempre da fuori si esprime però anche Jung affondando nell'umbratile fino a incontrarne le ombre vaganti fino a perdercisi dentro certo che quando intuisce in modo quasi oracolare e su questo io credo di esserci stata anni e di continuare a starci scrive ogni donna contiene in sé la propria madre e la propria figlia in modo che la psiche si prolunga per un verso nella madre per l'altro nella figlia e Jung consegna agli uomini e alle donne un enigma perché che cosa vorrà dire essere madre della propria madre prima di poterne essere figlia cosa vuol dire essere demetra prima che core se il materno apre al femminile se per essere donna compiuta nelle parti opposte core deve andare oltre dovrà in qualche modo tradire il materno da cui proviene e comunque materno che ha riconosciuto come prima tappa fondante di sé ecco demetra e core abitano nel mistero della fusione della confusione tra madre e figlia la fanciulla in noi nasce dall'essere stata prima la madre ecco per vivere in profondità quindi il femminile dobbiamo andare oltre il materno ma saper tornare al materno come nel mito rinnovate rinnovando ogni volta dentro di noi e in qualche modo questa vicenda di demetra e core portano per noi che siamo impregnate della cultura mediterranea dell'archetipo della grande madre mediterranea testimoniano che noi portiamo dentro di noi l'impronta di qualcosa che comunque sfugge la scienza delle tracce ci porta a riconoscere il sentiero di demetra e core e lo andiamo continuamente sperimentando senza trovare una strada sicura sempre a rischio di perderci in un quotidiano in cui spesso siamo esasperate dalle contraddizioni dalle emozioni opposte che ci portano ad amare ma anche a trovare insopportabili le figlie ma è così come figlie amare e trovare insopportabili le madri ma perché quando spostiamo il conflitto quando viviamo il conflitto all'esterno nel quotidiano del rapporto con le nostre figlie spesso questo conflitto messo fuori è perché noi non veniamo a capo dentro di noi tra il nostro materno e il nostro femminile la nostra core repressa il fantasma di un'adolescenza che non se ne va mai e dentro di noi continuamente viviamo questa eterna core come eterna Demetra in lotta per fuga per fuga per rabbia per nostalgia la presenza di una figlia o la presenza di una madre porta come dire la scaramuccia il conflitto all'esterno lo rende vivo esplicito ma dobbiamo sempre chiederci che cosa accade dentro di noi ecco questo modo di raccontare non si colloca mai in una comprensione astratta la parola il simbolo stanno comunque dentro le immagini per me io avrei voluto oggi portarvi una musica delle immagini cinematografiche delle visioni ecco voi traducete se possibile in visioni vostre personali perché questo come dire completa che la parola è solo una delle parti noi appunto donne umide in viaggio nella luce di una di un'equazione che smette certo che dentro non c'è altra strada oltre l'alterità per non cadere nel ruolo della vittima quindi per contenere a un livello accettabile la sofferenza ciascuna di noi deve avere sempre viva dentro la parte core la fanciulla che va e torna e questo ci permetterà di lasciare andare i figli a loro andare e ritrovare l'identità separata come qualcosa da vivere con trepidazione ma non con rabbia o competizione piuttosto con la bellezza e la gratitudine del rinnovarsi del mondo della possibilità di una continua rinascita con la fiducia nell'altra come altra da sé è come se tutto questo potesse portare qualcosa di quel materno femminile con cui a sua volta chi viene dopo di noi dovrà vivere lasciare andare quindi perché ci si rinnovi nel viaggio del materno e del femminile ci guadagno disse la volpe il colore del grano grazie a tutti